bentornati oggi vi parlo di una novità importante che riguarda il mio canale specifico che non è quella novità di cui avevo parlato nelle due live precedenti perché quella riguarda specificamente i contenuti della musica da film e l'annuncerò il mese prossimo questa è una novità che riguarda proprio tutto il canale ovvero sia da oggi chi vuole ha la possibilità di abbonarsi al canale infatti a fianco al pulsante iscriviti è apparso il pulsante abbonati specifico la cosa che per me è più importante di tutte per chi decidesse di non abbonarsi al canale non cambierà assolutamente nulla continuerò con i miei contenuti con i miei due video la settimana e con la live mensile pensieri in libertà per cui per chi non si abbona non cambia assolutamente nulla cambia invece per chi decide di abbonarsi e in questa maniera decide di dimostrarmi in maniera anche molto concreta il proprio supporto al mio canale domani uscirà un video in cui spiego nel dettaglio le varie opzioni che ci sono i vari profili di abbonamento però probabilmente avete già visto che a fianco al pulsante iscriviti sul mio canale c'è anche il pulsante abbonati per cui se volete potete già potete già sbirciare vi anticipo solamente che ci sono quattro profili di abbonamento e che alcuni includono dei contenuti esclusivi dedicati solo agli abbonati e che quindi saranno visibili solo agli abbonati e che un altro profilo addirittura ha la possibilità di avere dei video on demand per cui realizzerò i video che mi richiedete voi come detta questa è un'opzione che vi consente di accedere ad alcuni vantaggi esclusivi per gli abbonati al canale ma soprattutto è il modo che avete per dimostrarmi in maniera concreta ed effettiva ed efficace anche il vostro attaccamento e soprattutto la possibilità che date al canale di crescere perché ovviamente più abbonati vuol dire più contenuti vuol dire più tempo dedicato a creare nuovi video e soprattutto più tempo dedicato a voi in particolare un altro del delle opzioni che c'è in uno dei profili di abbonamento è una live mensile dedicata solo agli abbonati nella quale appunto essendo molti meno di quanti siamo nelle live normale potremo veramente dialogare in maniera diretta e approfondire tutti gli argomenti che vi interessano per cui dando per scontato che seguito questo canale siete iscritti al canale per chi vuole c'è questa opzione in più per gli altri come detto non cambierà niente grazie dell'attenzione ci vediamo domani con il video nel quale spiegherò i dettagli degli abbonamenti però se volete potete già andare a sbirciare adesso cliccando su abbonati ovviamente cliccando su abbonati non vi abbonate semplicemente vedete quali sono le opzioni anticipo solo che gli abbonamenti sono mensili e ovviamente si può recedere in qualunque momento ci vediamo domani